Buongiorno mi trovo a Corvara in Valbadia e sto testando il nuovo Huawei P9 Plus in modalità video nel frattempo godiamoci il panorama la giornata non è delle migliori ora proviamo a zoomare per vedere i dettagli del video proviamo, proviamo, lo zoom è buono non male proviamo un'altra zoomata qua sulle nuvole la valle e poi si prova la messa a fuoco per vedere la reattività già in modalità automatica vedete la messa a fuoco è veloce lo zoom è veloce la panoramica è veloce ecco qua, questo è il video sembra buono, si potrebbe fare di più comunque va bene